Agrippina la giovane, ambizione, potere e tragedia nella Roma imperiale. Agrippina la giovane, nipote di Augusto e madre dell'imperatore Nerone, è una figura complessa e affascinante della storia romana. La sua vita è stata assegnata da ambizione, potere, intrighi politici e un finale tragico. Infanzia e famiglia. Agrippina nacque nel 15 d.C. ed era la figlia del popolare generale romano germanico e della nipote di Augusto. Agrippina la maggiore. Apparteneva a due delle famiglie più importanti di Roma. Matrimonio e ascesa al potere, nel 33 dice Agrippina sposò lo zio paterno, Claudio, divenuto imperatore due anni prima. Questo matrimonio diede ad Agrippina una grande influenza politica. Usò la sua posizione per promuovere il progresso di suo figlio avuto da un precedente matrimonio, Nerone, e lo nominò erede al suo trono. A questo punto Agrippina raggiunse il massimo potere come donna del suo tempo e regnò per la prima volta accanto a suo figlio. Tuttavia, quella pace non dura a lungo. Nel tempo, il rapporto tra madre e il figlio divenne instabile. Nerone venne soffocato dalla presenza costante di sua madre. Nerone è un tipico figlio, un po' spietato. Non gli piace imparare, e si abbandona ai vizi. Sebbene la madre continuasse fin da piccola a essere coinvolta in complotti contro il fratello Caligola, visse per diversi anni con la zia Domizia Lepida e grazie a lei sviluppò la passione per il teatro e la danza. Tuttavia, Agrippina aveva in mente un futuro completamente diverso per suo figlio e lo sposa con Claudio Ottavia, figlia dell'imperatore e della sua defunta ex moglie Messalina. L'assassinio di Agrippina. Le cose si complicano quando l'imperatore Claudio sembra avere dei dubbi su Nerone. Secondo lo storico Tacito, Agrippina decide di intervenire e risolvere il problema alla vecchia maniera. Claudio viene avvelenato da un piatto di funghi e muore nel 54, all'età di 18 anni. Nerone venne eletto imperatore. A questo punto Agrippina raggiunse il potere più alto di qualsiasi donna dell'epoca, governando per la prima volta insieme a suo figlio. Tuttavia, quella pace non duro va a lungo. Nel corso del tempo, il rapporto tra madre e figlio divenne instabile. Nerone viene soffocato dalla presenza costante di sua madre. Nerone si innamora profondamente della liberata atte, ex schiava, e la sceglie al posto della moglie Ottavia. Stufo di Agrippina, l'imperatore nomina consiglieri lo statista romano Afranio Burro e il filosofo Seneca. Dopo la misteriosa morte di Britannico forse avvelenato da Nerone, le tensioni salirono al punto che Agrippina fu espulsa dalla corte. Anni dopo, Nerone temendo un complotto contro di lui decise di uccidere sua madre. Nerone scogitò due tentativi per uccidere la madre. In primis pensò di avvelenarla ma Agrippina aveva imparato a guardarsi bene le spalle assumendo antidoti che prevenissero il veleno. Dopodiché il figlio ebbe l'idea di camuffare il delitto in modo scenico, quasi teatrale. Provando a uccidere la madre prima via mare, nei dintorni del litorale di Baia, ispirandosi ad un marchigegno scenico visto a teatro, realizzò una nave o con sotto una botola o che si spezzava in due lasciandola affogare in mezzo alle acque. Lei si salvò nuotando fino alla costa ma l'errore fu quello di tornare da lui nonostante avesse capito l'intenzione di ucciderla. Poi la frase, celeberrima, colpisci al ventre che ti ha generato e così mori assassinata, probabilmente ferita da frecce.